Il Festival del Garda sbarca a Torri del Benaco, sabato 17 agosto, sul lungo lago Barbarani. Musica, moda, bellezza, con il corpo di ballo The Gamblers e l'irresistibile comicità di Roberto De Marchi. Bello io! Concordo, concordo. Presenta Raffaello Tononi. Vi aspetto sabato 17 agosto a Torri del Benaco. Vi aspettiamo a Torri del Benaco, dalle ore 21 e 30, sul lungo lago Barbarani, vicino al porto.